Stasera in TV, sabato 3 settembre 2022, andrà in onda The Voice Senior sotto la conduzione di Antonella Clerici, si tratta di una nuova puntata o di una replica? Scopriamo tutti i dettagli Stasera in TV, sabato 3 settembre 2022, andrà in onda la finale The Voice Senior che decreterà il vincitore, si tratta di una nuova puntata o di una replica? Scopriamo tutti i dettagli Leggi anche, Luisa Ranieri, Massimo Ranieri è suo padre? Mi è mancato l'affetto del mio papà, l'attrice è figlia di chi? Ecco la verità The Voice Senior stasera 3 settembre 2022, replica o nuova puntata? Quella che andrà in onda stasera in TV 3 settembre 2022 non una nuova puntata di The Voice Senior, si tratta invece della replica dell'ultima edizione condotta da Antonella Clerici The Voice Senior repliche, quando va in onda? Quante puntate? L'appuntamento con la replica di The Voice Senior, è ogni sabato sera in prima serata su Rai 1 Le puntate dell'edizione 2021 sono complessivamente 5. A che ora inizia? Orario, durata, quando finisce scopriamo, quindi, quando inizia stasera la replica della puntata di The Voice Senior, l'orario è dalle 21 e 20 circa e finirà intorno alle ore 00,40 La durata complessiva è quindi di circa 3 ore. The Voice Senior 2022, chi sono i giudici? Ecco chi sono i giudici dell'edizione di The Voice Senior attualmente in replica su Rai 1, Clementino Gigi D'Alessio Loredana Bertè insieme a loro, la new entry Oretta Berti che ha preso il post di Albano Carrisi e della figlia Jasmine The Voice Senior 2022, chi sono i finalisti? Durante la finale di The Voice Senior 2022 si sono esibiti 12 finalisti Ecco chi erano e la loro squadra di appartenenza, nella squadra di Oretta Berti, Roberto Barocelli, Cosetta Gigli, sostituita da Silvio Aloisio, e Franco Tortora nella squadra di Gigi D'Alessio, Claudia Arvati, la coppia formata da Piero Cotto e Beatrice Pasquali e Annibale Giannarelli nel team di Clementino, Marcella Di Pasquale, Luciano Genovesi e Russell Russell nella squadra di Loredana Bertè, Donata Brischetto Lanfranco Carnacina e Walter Sterbini dei Voice Senior 2022 concorrenti, chi ha vinto? Dopo la prima manche, sono stati eliminati 8 dei cantanti in gara e gli ultimi 4 finalisti rimasti si sono battuti in una seconda manche Gli ultimi finalisti rimasti erano Annibale Giannarelli, Claudia Arvati, Walter Serbini e Marcella Di Pasquale che se la sono giocata per la vittoria finale Foto di bloglive.it Claudia Arvati Foto di Amalfi Notizie.it Walter Sterbini Foto Annibale Giannarelli Chi è il vincitore di The Voice Senior 2022? Età, lavoro, lo chiamavano Trinità, Gigi D'Alessio, canzone, video Annibale Giannarelli è il vincitore di The Voice Senior 2022 Il cantante della squadra di Gigi D'Alessio è italiano-australiano e ha 73 anni Inizia la sua carriera giovanissimo e all'età di 15 anni e riesce a conquistare un disco d'oro Da giovane fece da spalla i concerti di Peppino di Capri e di Mina nella città di Sidney Ha raggiunto la notorietà internazionale grazie all'interpretazione del brano Trinity del film Lo chiamavano Trinità Di Franco Michalizzi, brano utilizzato successivamente anche nella colonna sonora del film Django Unchained Ecco il video con l'esibizione finale di The Voice Senior, htps2.com It, wp, content tuplo a 2022-2001 The Voice Senior Chi ha vinto ieri sera? MP4 Restate aggiornati anche con la pagina Instagram di Per Scoprire in anteprima tutte le news in merito alla replica della puntata di The Voice Senior in onda stasera Sabato 3 settembre 2022, i dettagli sulla finale e sul vincitore Grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione per farci discutere di seguito Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video, ciao!